Attenzione massima delle istituzioni sulla FIMER di Terra Nuova Bracciolini, testimoniata con l'incontro cui ha partecipato il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, insieme al Presidente della Regione Eugenio Gianni, all'Assessore al Lavoro della Regione Alessandra Nardini, ai Sindaci del Territorio e ai rappresentanti sindacali. Un incontro propedeutico al tavolo, già convocato al Mise per i prossimi giorni, per rilanciare il futuro dell'azienda che produce inverter per le energie rinnovabili, difendere il lavoro ma anche mantenere in Italia una produzione che il Ministro ha definito essenziale. Questo l'obiettivo. Il Ministro del Lavoro sarà attento e vigile in questi passaggi, assicurerà tutti i contributi necessari per azioni di rilancio, per eventuali investitori che vogliono andare in questa direzione e contemporaneamente manifesterà grande attenzione affinché non ci siano misure che possano ridurre la capacità produttiva occupazionale, tanto più in un settore che ha una valenza strategica per il nostro Paese, in un momento in cui si investe fortemente sulla transizione ecologica e nel quale il nostro Paese deve colmare un ritardo, un gap, un deficit che nel corso degli anni si è determinato rispetto ad altri Paesi proprio per trattenere gli investimenti che in questo settore si realizzeranno. Dobbiamo essere molto vigili, molto vicini. Ecco che questo patto d'unità d'azione fra Ministero del Lavoro, Regione Toscana, Comuni, Organizzazioni Sindacali è proprio perché questa realtà non vada in mano di chi poi non sa gestirla come inevitabilmente talvolta si è presentato e come elementi di crisi qui prospettano. Occorreva che i soggetti di questo patto si incontrassero, sintonizzassero i loro ragionamenti fin dal prossimo incontro al Mise del 10 di febbraio e questo è avvenuto.